Urban Story, come evidenziato al sottotitolo, è una lunga avventura nel mondo dell'immagine iniziata nel 1977. È un archivio, non è un luogo chiuso. È un luogo dove conservare delle immagini e dei ricordi, ma anche uno spazio dove trovare le storie e le immagini che possono aiutare a comprendere il presente e a immaginare il futuro. La storia di Drive Photo Art Contemporanea è il filo che ci ha guidato, attraverso una ricerca, alla costruzione di questo contenitore, formato da file di immagini, da video e da tracce sonore che sono stati prodotti appositamente per l'occasione. Drive Photo è così andata a riaprire i propri archivi analogici, digitalizzando gran parte del materiale, ma anche a ritrovare vecchi amici e protagonisti che ci hanno accompagnati. Nella storia della galleria abbiamo chiesto a ciascuno di loro di raccontare un pezzetto di questa avventura comune. Urban Story è dunque un contenitore aperto, aperto a nuovi contributi e a nuovi ricordi.